Terapia del dolore Terapia del dolore La terapia del dolore è sempre esistita, non è che è nata di recente, però ufficialmente una legge dello Stato ha sancito un diritto inequivocabile per tutti i cittadini di poter accedere a cure per sintomatologie, sindromi, stati dolorosi cronici. Questa legge è la legge numero 38 del 2010 che costituisce un nuovo inizio per la terapia del dolore. Cosa c'era prima e cosa c'è dopo? L'accesso alle cure era possibile prima e che cosa è cambiato dopo questa legge? Questa legge dovrebbe consentire, deve consentire un equo accesso a tutte le terapie del dolore purché siano terapie del dolore pertinenti alla sintomatologia dolorosa di tutti i pazienti. E' chiaro che esistono tanti tipi di terapie del dolore anche fuori dagli ospedali, ci sono varie tipologie di prestazioni a cui i pazienti che soffrono per dolore cronico possono accedere. Però è soprattutto una possibilità che hanno i cittadini che soffrono per stati dolorosi cronici di avere in ospedale la possibilità di iniziare terapie che siano adeguate, consone e appropriate alla sintomatologia di cui soffrono. Rispetto al passato dunque questa legge cosa dà l'accesso gratuito a queste cure oppure regolamenta l'accesso dei cittadini che ne hanno bisogno a queste cure? Diciamo che dà un accesso in ospedale che comunque è gratuito, non è previsto un pagamento di terapie, le terapie per il dolore in ospedale sono tutte gratuite. E' chiaro che fuori dall'ospedale si possono trovare anche altre tipologie di cure, queste cure dovrebbero, e forse lo sono per la buona parte dei cittadini, non accessibili proprio perché hanno dei costi. Che differenza c'è fra cure palliative e terapie del dolore proprio nei termini della legge già citata, la legge 38 del 2010? Le cure palliative regolamentano l'accesso soprattutto per i pazienti con problemi di dolore oncologico e di fine vita per avere comunque la possibilità anche lì di una serie di cure adeguate non solo al paziente ma anche alla famiglia. La terapia antalgica si occupa soprattutto della parte diagnostica e terapeutica per gli stati dolorosi cronici, prevalentemente dolore cronico non oncologico, dolore benigno, ma anche terapia per gli oncologici. Quali sono i principi su cui si basa la terapia del dolore? La terapia del dolore non sono solo valutazioni diagnostiche, sono anche valutazioni terapeutiche, cioè scegliere la terapia adeguata per i pazienti. Terapie sono terapie farmacologiche, terapie non farmacologiche come piccole procedure interventistiche per modulare, ridurre le sintomatologie dolorose. Le sindrome dolorose sono tante, per ogni tipo di sindrome dolorosa esistono poi delle procedure che sono adeguate a limitare, ridurre, contenere il dolore cronico delle persone che soffrono. Quindi concretamente quali sono le patologie che consentono ai sensi della legge già citata 38 del 2010 di accedere alla terapia del dolore? Le terapie più comuni e le patologie più comuni sono di sicuro le lombalgie, le cervicalgie, le dorsalgie, i dolori articolari, le patologie degenerative articolari, infiammatorie, reumatologiche. Le terapie che possono essere disponibili per questa tipologia di sindrome dolorose sono diverse tra quelle che facciamo, l'utilizzo di farmaci antinfiammatori, anestetici per iniezione, per infiltrazione, possibilità di utilizzare tecniche di neuromodulazione dello stimolo doloroso attraverso l'utilizzo di radiofrequenze, attraverso l'utilizzo di neurostimolatori e nei casi più delicati e delle patologie più complesse si utilizzano spesso dei dispositivi elettronici per l'infusione di farmaci nell'interno del canale midollare, quindi direttamente a contatto con le strutture nervose centrali. Questi li vedremo in dettaglio tra poco, li abbiamo già con noi in studio, sono nostri ospiti silenti per adesso e poi ce li illustrerà la dottoressa Mastroluca. Ora, il problema è capire se queste cure sono erogabili da tutti i centri ospedalieri oppure bisogna trovare quello giusto, tra virgolette. La legge 38 di cui accennavamo prima dispone anche la regolamentazione per la costruzione di una rete della terapia del dolore. È chiaro che non tutti gli ospedali, tutti i centri possono erogare determinate prestazioni, soprattutto prestazioni complesse di alto livello. Questa rete prevede anche per la Regione Puglia l'identificazione di alcuni centri in cui è possibile erogare queste prestazioni a più alto livello di complessità. Rispetto ad altri centri dove è possibile ancora praticare terapie, ma non complesse, questi centri a più elevata complessità vengono definiti hub dalla legge. Ci sono poi altri centri dove si possono fare prestazioni di minore complessità e anche visite per la terapia del dolore. E sarebbero gli SPOC. Gli SPOC possono essere dei centri ambulatoriali o anche delle strutture ospedaliere. Alla base di questa piramide, potremmo dire, ci sono poi le aggregazioni territoriali dei medici di medicina generale, con un referente e ogni medico di famiglia per dare continuità assistenziale per la terapia del dolore praticata, ha direttamente lui poi la responsabilità che le terapie iniziate possano continuare ad essere eseguite ed applicate nella giusta forma per tutti i pazienti. Quindi è possibile la continuità terapeutica senza costringere per tutto l'arco della terapia il paziente a restare in ospedale? Esattamente. La legge prevede questo. E per accreditarsi un centro deve avere determinate caratteristiche? Deve avere soprattutto lab, deve avere la possibilità di poter fare diagnostica all'alta complessità, quindi con determinate strutture di imaging radiologico e possibilità di eseguire determinati esami specialistici. E poi deve avere la possibilità di avere una serie di strutture per praticare, strutture operative, per praticare le tecniche di cui accennavamo prima, interventistiche per la terapia del dolore a più alta complessità. E quindi avere sale operatorie adeguate, posti letto di degenza e avere, credo comunque soprattutto, la possibilità di avere medici dedicati a fare questo tipo di prestazioni. Quanto è importante il rapporto fra gli specialisti che in ambiente ospedaliero praticano la terapia del dolore e i medici di base? È molto importante perché, come dicevamo poc'anzi, è importante dare continuità terapeutica. Il paziente non si deve sentire legato solamente al centro specialistico. Per alcuni pazienti questo potrebbe voler dire fare molti chilometri, oppure poter avere solamente colloqui telefonici, ma poter avere sul territorio e quindi vicino casa un medico competente per la terapia del dolore, come il medico di medicina generale, di sicuro gli può dare assistenza, consigli per valutare le terapie intraprese o per una prima valutazione diagnostica all'insorgere del problema. E quindi si creano dei veri e propri accordi fra gli specialisti e i medici di base? Esatto, sono accordi che di fatto, da un punto di vista pratico, esistono già. Si tratta ora di definirli con maggiore razionalità per dare la possibilità, come dicevamo, a tutti di avere un'equa assistenza per tutti. Di recente abbiamo già intravisto alcune immagini, ci sono stati una serie di congressi a Casa Sollievo della Sofferenza che riguardavano proprio la terapia del dolore. Ne avete fatti diversi di questi congressi? In questi anni sì, perché uno dei compiti che il legislatore comunque ci ha assegnato... Stiamo vedendo ancora queste immagini, sì. E dare spazio all'informazione, informare non solo i cittadini ma anche gli altri colleghi della possibilità dell'esistenza di questa terapia antalgica per i pazienti e poter creare eventi del genere, dare la possibilità a tutti di intervenire, migliora la conoscenza tra tutti delle patologie dolorose e dalla possibilità di conoscere anche quello che ognuno di noi fa per la terapia del dolore. Seguendo un po' l'ordine di questi congressi vedo che si sono distinte le sindrome dolorose, inordinarie, complesse, inconsuete e poi c'è stato pensato anche un congresso particolare sulle strategie terapeutiche. Come vai queste distinzioni? Perché sono tutte e tre problematiche molto importanti per i pazienti, per i medici. Le sindrome dolorose comuni sono le patologie dolorose più frequenti, quelle di cui soffrono la maggior parte delle persone. Le patologie dolorose più complesse sono soprattutto patologie legate a sindrome dolorose da lesioni del sistema nervoso periferico e il dolore neuropatico e sono un altro capitolo molto importante e una patologia molto difficile da trattare per i terapisti antalgici. Le sindrome dolorose rare sono alcune patologie veramente rare dove poi individuare delle terapie è molto difficile, anche nell'ambito della terapia antalgica. L'ultima giornata dell'evento, le strategie terapeutiche, è un altro importante momento per tutti coloro che si occupano di terapia del dolore. Definire le strategie più adeguate per intervenire, per migliorare il controllo del dolore, nei pazienti, è un momento molto importante di unione e di scambio di informazione tra tutti i medici che si occupano di questo problema. Dunque, nell'ambito della terapia del dolore, probabilmente in un posto di primo piano ce l'hanno le patologie che danno un dolore cronico, è così, dottor Visconti? Esatto. La terapia antalgica, il suo scopo è curare, diagnosticare dolore cronico, sintomatologie dolorose croniche. E quali sono le patologie che danno dolore cronico? Le patologie più comuni a cui accennavamo anche prima sono le patologie degenerative del rachide vertebrale, patologie come la lombalgia, la dorsalgia, la cervicalgia, patologie degenerative articolari legate a malattie come l'osteoartrosi, la cefalea, l'emicrania. Poi ci sono patologie un po' più rare, ma non per questo meno importanti o meno facili da trattare. Sono le patologie da dolore neuropatico come le nevralgie del trigemino, le nevralgie post-arpetiche, le neuropatie periferiche, le neuropatie da chemioterapici, le neuropatie legate ad interventi chirurgici, come gli stati dolorosi persistenti dopo toracotomie o dopo mastectomie. Quanto è diffuso il dolore cronico in Italia? Se vediamo anche i confronti con gli altri paesi, di sicuro ha un'alta prevalenza, anche rispetto a ciò che accade nel resto del mondo. Il dolore cronico è molto comune, è molto comune anche il dolore cronico severo, cioè il dolore difficile da trattare. Ma c'è un rimedio anche per questo dolore cronico che se non è possibile sconfiggere del tutto si può perlomeno attenuare o no? Esistono le terapie mirate di neuromodulazione, neuromodulazione farmacologica e neuromodulazione non farmacologica, le terapie di neurostimolazione, le terapie di infusione per via intratecale dei farmaci. Quindi non c'è dolore verso il quale si è completamente impotenti? No, abbiamo terapie per tutte le sintomatologie dolorose. Non sempre ciò che otteniamo, il risultato che otteniamo è il risultato che tutti i pazienti vorrebbero, cioè eliminare completamente il dolore. Ecco, adesso vediamo concretamente come si svolge l'attività terapeutica di fronte ad un paziente che viene dallo specialista e dice voglio smettere di soffrire e non voglio più soffrire come prima. Come funziona l'iter a partire dal primo incontro? Abbiamo la possibilità di fare visite diagnostiche tramite un accesso ambulatoriale. Abbiamo la possibilità per due giorni alla settimana di dare accesso tramite prenotazione con il centro unico prenotazioni di ospedaliero la possibilità di fare visite ambulatoriali. Nell'ambito di queste visite possiamo diagnosticare la sindrome dolorosa cronica e possiamo iniziare una terapia, una terapia che può essere farmacologica. In ambulatorio abbiamo la possibilità anche di eseguire piccole pratiche, diciamo, interventistiche semplici che non richiedono la necessità di un monitoraggio o la necessità di avere dei dispositivi più importanti. Per questo tipo di procedure abbiamo la possibilità di ricoverare i pazienti in dei sargeri o in dei hospital e abbiamo la possibilità a volte di fare queste procedure anche in un ambulatorio all'interno dell'ospedale. A questo ambulatorio ci si accede però solamente dopo una prima visita eseguita al poliambulatorio Giovanni Paolo II. Tra le altre possibilità che abbiamo abbiamo un reparto con la possibilità di degenza per i pazienti per quei pazienti che hanno bisogno di ricorrere invece a delle procedure interventistiche più invasive, più importanti. Sono le procedure di radiofrequenza, le procedure di impianto dei neurostimolatori midollari, le procedure di impianto delle pompe per infusione intratecale. E ora è il momento di vederle e di descrivere questi dispositivi e per questo è con noi la dottoressa Mastroluca che ha portato due aggeggi, io li chiamo così, da profano, ma che lei ci spiegherà meglio. In che cosa consistono, qual è la loro funzione e per quali tipi di patologie si applicano? Allora, questi due dispositivi vengono utilizzati soprattutto per quelle procedure interventistiche di cui parlavamo prima e seguite principalmente in sala operatoria. Sono, diciamo, due dispositivi per terapia del dolore un po' più avanzati rispetto ad altri. Il primo è la neurostimolazione midollare ed è un dispositivo che permette di fare terapia non farmacologica in quei pazienti che per diverse patologie spesso legate a rachide lombare o anche dorsale non rispondono a terapie farmacologiche anche con opioidi forti ed in più anche con terapie, diciamo, meno invasive. Vorrei farci un esempio più concreto perché noi abbiamo un pubblico che non è di specialisti. Di quali tipi di patologie attinenti al rachide possono richiedere l'impianto di un neurostimolatore? La degenerazione del rachide lombare o anche dorsale provoca purtroppo dolori come lombalgie, dorsalgie e radicolopatie, cioè dolori che vanno alla colonna oppure anche alle gambe, spesso associate ad interventi chirurgici che possono a volte non risolvere completamente la problematica del paziente che si trova quindi comunque di fronte a dover affrontare una terapia del dolore. I vari passaggi sono sicuramente quello di curare, diciamo, il dolore con dei farmaci e abbiamo a disposizione diversi farmaci che vanno dai più leggeri a quelli un po' più importanti. A volte neanche quelli ci possono aiutare. E allora una possibilità è quella di utilizzare questa neurostimolazione che consiste nel posizionare degli elettrodi a livello del canale vertebrale per eseguire una stimolazione dei cordoni posteriori del midollo che ci permette di dare uno stimolo che maschera il dolore del paziente e quindi la possibilità al paziente di avere un'arma in più per controllare il dolore e soprattutto sottolineo che è una terapia non farmacologica, è una terapia fisica che quindi può aiutare spesso il paziente a ridurre i farmaci assunti per questo tipo di problema soprattutto quando poi questi sono affiancati da effetti collaterali. Quindi l'elettro stimolatore viene applicato sotto cute, sotto pelle? Sì, l'impianto del neurostimolatore è molto simile forse a quello di un pacemaker come impianto. Gli elettrodi vengono quindi però posizionati nel canale vertebrale, nello spazio epidurale in sala operatoria e quindi poi il dispositivo viene impiantato tutto sotto cute con questo dispositivo che viene messo o a livello addominale o lombare però il paziente poi è del tutto libero di muoversi perché è tutto impiantato come sistema. E quindi il dispositivo periodicamente dà delle scariche elettriche che maschera il dolore? Diciamo continuamente, sì. E quindi l'energia necessaria per dare queste scariche elettriche lo prende da una batteria, che è una batteria. Quindi periodicamente bisogna cambiare la batteria dello stimolatore. Periodicamente in un tempo abbastanza lungo. Ah, sono batterie diciamo a lunga resistenza. Certo, sì. E possiamo dire che per tutta la vita il paziente, non essendoci state altre soluzioni terapeutiche, deve portare questo apparecchio sotto pelle e deve ogni tanto cambiare la batteria. Forse per tutta la vita non è neanche corretto perché in fondo è un dispositivo che si può rimuovere nel momento in cui il paziente non ne abbia più bisogno, siano cambiate le sue esigenze. È un dispositivo impiantato, però è possibile rimuoverlo. Senza grosse difficoltà, insomma. No. L'altro dispositivo? L'altro dispositivo è invece la pompa intratecale. È un dispositivo che permette, mediante un catetere che viene collegato a questo dispositivo che funge da riserva del farmaco. Come se fosse un piccolo serbatoio. Certo, anche questo è tutto impiantato sotto cute che rifornisce attraverso un catetere che va anche questo direttamente dentro il canale midollare e in questo caso è farmacologico. Cioè permette al paziente di dare farmaci diretti per il dolore. I quali la morfina. Soprattutto però la differenza è che le dosi che vengono fornite direttamente nello spazio intratecale, cioè all'interno della colonna, sono molto minime rispetto a quelle che il paziente è costretto ad assumere per bocca. E quindi la differenza sta soprattutto nel ridurre gli effetti collaterali che spesso i farmaci oppioidi possono dare al paziente quando questi soprattutto aumentano come dosaggio. e quindi il paziente trova più facilmente una via più facile per gestire il suo dolore con meno effetti collaterali. In più, questo dispositivo lo utilizziamo anche in pazienti con problemi di spasticità, da sclerosi multipla o da insulti anche ischemici del midollo cerebrali per combattere la spasticità perché viene rifornito di un farmaco che ha la funzione di ridurre la contrazione muscolare e anche questo per ridurre gli effetti collaterali che diversamente si hanno prendendo questo stesso farmaco per bocca. Quindi al di là degli effetti positivi per la spasticità, comunque anche quello è un dispositivo per combattere il dolore. E da quello che capisco, visto che la zona bersaglio è sempre la stessa, cioè il midollo spinale, viene utilizzato per lo stesso tipo di problematiche rispetto all'elettrostimolatore? Forse proprio lo spazio anatomico è sempre quello del canale vertebrale. È leggermente diverso perché il dispositivo neurostimolatore viene impiantato nello spazio epidurale. Invece il catetere viene impiantato direttamente all'interno del licor, dove c'è il licor, dove c'è il midollo. E quando si usa allora l'uno e quando si usa l'altro? Per quali patologie, per l'elettrostimolatore l'abbiamo già detto, per quali patologie si usa invece questo erogatore di farmaco? Questo dispositivo in effetti può essere dedicato sia al paziente oncologico quando per dolore severo deve affrontare una terapia molto importante, peraltro a volte non completamente coperta, da una terapia per bocca. Diversamente, quando si parla di spasticità, si utilizza questo dispositivo quando la spasticità provoca dolore, quindi rientra tutto nella stessa problematica che affrontiamo. Oltre a questi due che ci avete portato e abbiamo mostrato i nostri telespettatori, ci sono altri dispositivi, cioè questi due sono un campione di una serie più ampia oppure questi sono quelli più utilizzati, quelli che hanno una maggiore efficacia? In una scala di trattamento sicuramente questi sono l'ultimo gradino, cioè quando il paziente ha seguito una serie di terapie un po' più semplici, un po' più gestibili, questi sono quei dispositivi più avanzati anche a livello tecnologico per gestire il dolore e sono quindi in un algoritmo di terapia all'ultimo gradino. C'è un'evoluzione anche tecnologica di questi dispositivi, nel senso che rispetto a ieri e guardando al futuro si può prevedere che si possono avere dispositivi più performanti e per certi versi, date le dimensioni che forse oggi sono piccole rispetto a ieri ma che potrebbero essere grandi rispetto a domani, prevedere appunto dei dispositivi più piccoli da essere anche più estetici da portare sotto pelle? Sicuramente sì, sono dispositivi tecnologici che hanno un continuo miglioramento. Per la pompa intratecale il grosso limite è il rifornimento del farmaco, quindi la grandezza è anche un po' legata al fatto che comunque permette di mettere un certo quantitativo di farmaco per cui il paziente poi comunque bisogna rifornirlo, ha un intervallo di tempo un po' più grande per poterlo rifornire. Invece del neurostimolatore sicuramente ne esistono anche più piccoli per tipo di stimolazioni diverse, comunque una tecnologia in continua evoluzione. Anche lì forse c'è il discorso del rifornimento ma è energetico, la batteria. Le dimensioni per adesso sono legate anche a quello, però speriamo che la tecnologia possa fare anche da questo punto di vista dei passi in avanti. Dottor Visconti, per quella che è la sua esperienza maturata in questi anni, quanto giovamento trovano i pazienti? Come cambia la loro vita dopo aver sperimentato formule alternative di riduzione del dolore e poi essere arrivati da voi? Queste terapie non sono terapie recenti, sono terapie che esistono da 10, 20 e più anni. La neurostimolazione è di sicuro una terapia che ha risolto brillantemente molte patologie dolorose. è una terapia che al di là di tutto è sì in continua evoluzione, tant'è che noi non pratichiamo solamente stimolazione midollare, pratichiamo anche stimolazione periferica, dei nervi periferici, pratichiamo stimolazione dei gangli, stimolazione gangliare e la continua evoluzione e quindi applicazione di questo tipo di terapia sta coinvolgendo sempre di più anche patologie che non erano trattate prima. Sono patologie come il Parkinson, patologie come stati dolorosi, neuropatici, centrali, in pazienti che hanno avuto o tumori cerebrali o gravi eventi schemici cerebrali ed è un campo in continua evoluzione. Lo stesso può dirsi dell'infusione intratecale dei farmaci. Man mano che saranno sempre più disponibili farmaci per il dolore, farmaci soprattutto per il dolore neuropatico, avremo sempre più un'implementazione, un'applicazione di queste terapie, farmaci di recente in missione in commercio o farmaci che in questo momento sono ancora in studio sperimentale. Quindi mi pare di capire che anche la farmacologia sta cercando di mettere a disposizione dei farmaci sempre più efficaci ma con sempre meno effetti collaterali. Esattamente, noi stiamo sempre di più facendo terapia antalgica in casa sollievo proprio perché in questi anni i risultati non hanno incoraggiato solo noi a continuare ma soprattutto i pazienti che continuano ad essere sempre più numerosi. Abbiamo detto prima che la terapia si inizia in ambiente ospedaliero poi si può continuare anche a domicilio ma è opportuno periodicamente che i pazienti tornino dallo specialista per verificare la risposta ai farmaci anche perché faccio nella domanda un'altra domanda ci può essere una sorta di assuefazione dell'organismo a questi farmaci tant'è che poi si debba variare il dosaggio aumentare il dosaggio? Per entrambe le terapie sono previste continue visite di controllo a sei mesi ad un anno non solo per le terapie farmacologiche ma anche per il neurostimolatore perché la sintomatologia dolorosa può cambiare nel corso dei mesi e se richiede una riprogrammazione della stimolazione il paziente può beneficiarne solamente venendo a visita di controllo e consentendo a noi di riconfigurare il neurostimolatore in questi casi come anche nell'approccio preliminare la valutazione del dolore è solamente clinica è sulla base del racconto che ne fa il paziente o faccio una domanda da profano il dolore si può misurare in qualche modo? è un po' più difficile misurare il dolore esistono degli strumenti che si chiamano algometri perché però non danno una valutazione assoluta del grado di dolore di cui soffre un paziente spesso e soprattutto per noi una valutazione clinica dei riscontri indiretti alla gravità del dolore di cui soffre un paziente questi riscontri possono emergere solamente da una visita diretta al paziente dal sentire la descrizione della sintomatologia dolorosa e dal valutarlo con esami clinici ed eventualmente anche con esami strumentali abbiamo già visto delle depositive che ci hanno dato dei riferimenti per poter accedere al vostro servizio di terapia del dolore vogliamo rivederli in maniera tale da dare la possibilità ai nostri telespettatori di prendere nota anche del numero del cup di annotare anche gli orari in cui è possibile accedere all'ambulatorio del dolore e nel frattempo che rivediamo queste diapositive pongo la domanda allo specialista ci viene direttamente il paziente oppure è bene che anche in questo caso sia coinvolto il medico di base cioè il paziente va dal medico di base a dire che ho questo problema che non riesco a risolvere posso andare al medico del dolore o al medico che pratica la terapia del dolore la possibilità di realizzare questa rete della rete del dolore prevede proprio una stretta collaborazione dei medici di medicina generale con gli specialisti è chiaro che il paziente può anche accedere direttamente senza passare dal medico di medicina generale oppure senza passare da uno specialista la tipologia di pazienti che accedono al nostro ambulatorio è varia non sono solamente pazienti che sanno dell'esistenza della terapia antalgica ma sono anche pazienti che ci sono inviati dai medici di medicina generale e dai colleghi specialisti che richiedono da parte nostra una valutazione per determinati stati dolorosi o per migliorare terapie già in atto o per proporre al paziente ulteriori terapie che noi possiamo praticare per finire quali sono le percentuali di risoluzione completa quali le percentuali di attenuazione significativa che si possono ottenere attraverso la terapia del dolore è chiaro che i casi più semplici danno successi brillanti ma abbiamo avuto anche per patologie complesse dei successi dei successi insperati quali sono quelle che pur essendo complesse hanno dato risultati insperati ci sono patologie molto devastanti per l'equilibrio di una persona come la nevralgia post-erpetica abbiamo avuto del famoso fuoco di Sant'Antonio non lo chiamiamo neanche herpes zoster perché forse non sarebbe compreso da tutti ma il fuoco di Sant'Antonio lo conoscono tutti soprattutto chi l'ha avuto se lo ricorda abbiamo avuto casi molto complessi di pazienti che soffrono di nevralgia post-erpetica risolti con tecniche di radiofrequenza e che hanno completamente dimenticato il dolore o lo hanno attenuato lo hanno a volte completamente dimenticato esatto quindi comunque è una veramente grande possibilità in più che i sistemi della farmacologia ma anche della fisica intesa come appunto fisica medica mettono a disposizione ringraziamo dunque il dottor Visconti e la dottoressa Mastro Luca per averci illustrato le capacità terapeutiche della terapia del dolore e ringraziamo anche voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi a